Musica Cari amici ben ritornati dalle vacanze, siamo qui con il nostro sfida vincente daily, questa sera qui con noi Gian Battista Mantelli che è cofondatore e amministratore e anche direttore commerciale della Venchi S.P.A. Buonasera ben arrivato, di che cosa si occupa la Venchi S.P.A.? Di rendere felici tutti attraverso i suoi cioccolatini, perciò di produrre cioccolato piemontese, di valorizzare la storia del Piemonte come culla dolciaria significativa del cioccolato italiano e di farla apprezzare sia a livello nazionale che all'estero attraverso le nostre boutique di cioccolato. Ecco, la Venchi è un'azienda assolutamente piemontese, quindi made in Italy 100%, però sicuramente voi commercializzate i vostri prodotti non solo in Piemonte ma in tutta Italia e anche all'estero, credo, vero? Assolutamente sì, da sempre la Venchi fin dalle sue origini ha avuto questa grande ambizione di far conoscere e far apprezzare le bontà degli ingredienti di territorio piemontesi come le prelibate nocciole e soprattutto di far vivere quel momento esperienziale di grande passione, perché l'autenticità, l'italianità e anche la passione di trasformare materie prime, ingredienti in esperienze di gusto straordinarie. Certo, gli italiani adorano il cioccolato immagino? Gli italiani adorano il cioccolato ma anche i giapponesi, anche gli americani, anche gli inglesi, gli italiani sono dei grandi mangiatori di dolci con un'evoluzione naturale che sta arrivando nel cioccolato, tanto che il procapite sta arrivando verso i 4 kg a testa. Se pensiamo che in Svizzera sono già oltre i 10 e in America oltre i 20, a testa fa pensare quanta strada ci sia ancora da fare per far conoscere queste prelibatezze. Assolutamente sì, ringraziamo molto Gian Battista Mantelli, amministratore e direttore commerciale della Venchia SPA, grazie e buonasera a voi tutti, ci vediamo domani con un altro Daily. Grazie. 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 Grazie.